L'Anello dei Crinali identifica un'area del Piceno, in provincia di Macerata, al confine nord-est del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, caratterizzata da un paesaggio naturale fantastico, acronimo dell'intera regione. Il territorio è compreso tra i 400 metri sul livello del mare della zona collinare fino a circa 2000 metri dell'area montana. Il mare adriatico è raggiungibile in mezz'ora d'auto. Cinque sono i comuni che lo definiscono. Gualdo, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Sant'Angelo in Pontano e Sarnano. Essi raccontano una storia millenaria che si sviluppa dal periodo pre-romano fino ai nostri giorni. Storia fatta di tante singolarità, che pur nei diversi caratteri, costituiscono un unicum di incomparabile fascino. La multiforme versatilità caratteriale della gente che vi abita si manifesta nella particolare e variegata forma del paesaggio, costruito e continuamente mantenuto nel tempo. Il paesaggio agricolo storico, che pur si rinnova ogni anno, è definito dalle molteplici culture, da boschi, strade, villaggi e paesi che si compongono in geometrie libere e complesse, di immediata percezione e fascino, tanto da indurre a guardare i vari orizzonti, rapiti in lunghi silenzi. Questo paesaggio agricolo unico in Italia è il risultato straordinario di secoli di intelligente e premuroso intervento dell'uomo, che sapientemente ha utilizzato i suoli per la propria sussistenza, senza mai stravolgerne gli equilibri e senza comprometterne la suggestiva bellezza. Il percorso di circa 70 chilometri si snoda su crinali e valli con infinite visuali che spaziano su affascinanti paesaggi lontani, che vanno dal mare adriatico fino ai monti del Gran Sasso, con alle spalle il paraco nazionale dei Monti Sibillini.